ben trovati amici di fano tv alla rassegna stampa sono esattamente alle 7 di venerdì 24 febbraio 2023 24 febbraio è una data purtroppo fatidica oggi scade un anno della guerra russo ucraina e vediamo che i giornali con cronaca nazionale ovviamente riportano diffusamente questo avvenimento facendo anche un consuntivo di tutti i brutti e avvenimenti che sono accaduti durante l'anno purtroppo la situazione non si risolve e vediamo che c'è un impasse molto drammatica per quanto riguarda questo evento ma noi ci occupiamo di cose nostre che sono meno gravi ovviamente di quello che accade a livello nazionale oggi abbiamo un ospite con noi lo salutiamo subito è dimitri tinti buongiorno assessore buongiorno dimitri tinti lo conosciamo tutti assessore al welfare di comunità del comune di fano quindi si occupa dei servizi sociali ed è veramente un impegno una delega importante assessore sì una delega importante che tra l'altro ricoperto e continua a ricoprire dopo un periodo che insomma dopo tutto il tema della pandemia chiaramente non è stato facile sicuramente facile va bene noi procediamo però secondo il consueto vedendo l'almanacco del giorno ed oggi vediamo subito il santo che si festeggia è santa ed alberto santa ed alberto non ho molte notizie in merito a questo santo insieme a santa ed alberto si festeggia anche san babila di antiochia che visse nel terzo secolo comunque sono due santi importanti che risalgono uno al medioevo e uno alla antichità passiamo ora alle previsioni del tempo e vediamo che sulle marche i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi salvo la presenza di qualche addensamento nel pomeriggio e anche nella sera la temperatura massima registrata sarà di 12 gradi la minima di 5 il mare è mosso e i venti spireranno da una direzione di este nordeste sulle coste e di este nel parte dell'interno ed ora apriamo apriamo i giornali a partire dal Corriere Adriatico oggi che evidenzia subito una notizia di cronaca ecco qui l'articolo ex convitto scovato un fanese altri abusivi si sono dileguati qual è questo ex convitto evidentemente è il vittoria colonna vittoria colonna oggetto di nuovo blizza all'alba di ieri mattina da parte dei vigili urbani e degli uomini del commissariato di fano ebbene dentro si è trovata una situazione veramente caotica assessore che lei conosce bene il problema del vittoria colonna del vittoria colonna è un problema di ordine pubblico prima di tutto ma anche di ordine sociale il problema della casa ospita senza senza tetto che sono abusivi sì chiaramente è un problema soprattutto di ordine pubblico e per questo sono informato sia dal sindaco che dall'assessora alla polizia locale anche per i vari interventi che la polizia locale ha eseguito d'accordo con le forze dell'ordine quello è una è un complesso importante all'interno della città per quello che riguarda il problema sociale per il momento perché noi abbiamo un pronto intervento sociale attivo con enti del tratto settore non siamo stati investiti adesso vengo scopro insomma che c'è anche un fanese l'abbiamo saputo ieri però ecco sì oltre questo lì credo che ci siano due temi uno è il recupero di quel di quell'immobile perché chiaramente in uno stato di degrado poi è incentivo o diciamo porta anche a situazioni di di questo tipo di abusivismo di occupazione in debita e quindi so che insomma di recente c'è stato anche un incontro del sindaco del vice sindaco con la società il fondo che gestisce per conto di in questo complesso che bello vasto importante che c'è una storia tra l'altro ci sono anche no delle delle interessi anche da un punto di vista di chi perché quella l'ennam è l'ente nazionale era l'ente nazionale di assistenza alle maestre maestri e quindi ecco è importante il recupero io spero e mi auguro che sia un recupero funzionale alla città perché abbiamo bisogno appunto di alloggi soprattutto per i anche per il tema dei dei più anziani che possono essere anche che so con una in una sorta di indipendenza un po come una sorta di casa albergo ma sostenibile possibilmente quindi per le esigenze del territorio e non invece tarato per esigenze altre e dall'altra c'è il tema del disagio abitativo si è vero e devo dire che l'amministrazione comunale negli ultimi due anni poi non si arriva mai dove si vorrebbe arrivare però un dato solamente abbiamo impegnato siamo il comune che negli ultimi due anni ha avuto sul tema della l'affitto sul sul bando a cui abbiamo ogni anno facciamo uscire le risorse più importanti della regione proprio perché il comune ci ha messo risorse proprie e queste hanno avuto un effetto moltiplicatore quindi un ulteriore stimolo da parte di loretta manocchi che è la segretaria di fratelli d'italia oggi sul giornale che dice quanti altri blitz dovranno eseguirsi prima che come sostenuto dalla giunta a giugno partano i lavori di bonifica al fine di qualificare tutta l'area insomma responsabilizza un po il comune anche se dobbiamo dire il vittoria colonna è uno stabile un complesso privato insomma il comune non ha la proprietà di questa cosa però insomma insistere o con la prefettura oppure con i privati mettere delle ordinanze eccetera potrebbe un pochino insistere di più sì certo come ricordavi bene tu il complesso non è di proprietà comunale questo chiaramente non comporta che il comune se ne debba disinteressare io so che appunto sia l'assessore l'assessora alla polizia locale sia il sindaco sono interessati hanno interessato il prefetto la questura e quindi sono in stretto coordinamento poi chiaramente non dappertutto si può arrivare situazioni che sono il più possibile sotto sorveglianza poi ecco prima o poi bisognerà intervenire anche in maniera più drastica probabilmente con ordinanze adesso io non è la mia competenza però insomma so che su questo sono molto vigili e attenti certo non si può andare avanti a forza di blitz insomma bisogna risolvere la situazione ed ora parliamo di politica assessore parliamo di politica perché i giornali entrambi questa mattina riportano un appello che è stato evidenziato dal partito democratico in vista delle primarie di domenica prossima vediamo il titolo che appare sul corriere adriatico primarie appello del pd per il gioco di squadra a fano saranno allestiti sette seggi si vota anche per la segreteria regionale proprio una delle candidate era presente ieri in questa conferenza stampa sul resto del carlino vediamo il titolo primarie pd tutti i seggi per votare i fanesi crediamo nella politica c'è anche una dichiarazione di sarra cucchiarini che è l'assessore alle pari opportunità ma anche alle finanze abbiamo bisogno di unità dice mentre il segretario della dora c'è necessità di rigenerarsi per costruire una alternativa questo input alla unità insomma è abbastanza sentito perché ci sono due correnti contrapposte che hanno raggiunto veramente il limite di dire assessore che faceva parte uno di una corrente uno dall'altra assessore dimettiti insomma siamo arrivati proprio all'eccesso com'è la situazione attualmente allora innanzitutto va sottolineato credo che c'è un appuntamento importante domenica perché non tutti non tutte le forze politiche poi un massimo rispetto per tutte le altre forze politiche però devo dire che il partito democratico avrà tanti difetti ma è l'unica forza politica che mette in piedi forse anche in maniera un po lunga lenta laboriosa però ecco mette in piedi un processo di partecipazione democratica che davvero di cui dobbiamo essere orgogliosi l'abbiamo fatto nei circoli con gli iscritti adesso domenica invece sono le primarie aperte a tutti gli elettori o potenziali elettori quindi non solo gli iscritti dalle 8 alle 20 a fano si vota in sette seggi si vota nel nostro caso non solo per le due emozioni che sono collegate ai due candidati nazionali cioè bonaccini e lash line io in questo caso o faccio anche una mia dichiarazione o sto appoggiando e appoggio stefano bonaccini perché credo che sia la scelta migliore anche di in prospettiva e a livello regionale invece sono candidate due donne anche questo è apprezzabile entrambi giovani chantal bonprezzi e michela bellomaria in questo caso io appoggio la seconda michela bellomaria per il tema appunto della squadra come ho visto che viene riportato anche dal titolo sul fano io credo che questo sia anche questo stiamo lavorando insieme anche per la costruzione delle primarie i circoli sono attivi ecco noi dobbiamo trovare sempre di più momenti di convergenza di ricompattamento ne abbiamo bisogno poi ci sono state delle divisioni forse qualche differenza è giusto che ci sia in partito democratico si deve confrontare in maniera democratica c'è stato un congresso ci sono stati c'è una maggioranza e una minoranza ma credo che il dialogo debba essere all'ordine del giorno e debbono costruirsi dei percorsi e dei momenti di confronto costruttivo operativo poi sì i momenti di frizione ci sono stati è chiaro che quando c'è una maggioranza che esce da un congresso è una maggioranza che chiaramente chiede un cambio di passo questo era un po il tema no anche legato al però certo guardiamo avanti e credo che ci siano tutti i presupposti per costruire diamo anche qualche altra informazione i seggi dunque si vota si vota dalle 8 alle 20 domenica prossima i seggi sono quelli del circolo anziani di cucurano per le zone di bellocchi e la flaminia poi la sede del pd in via norfi 106 per il centro il mare il centro civico di gimarra per gimarra e fenile a scuola medianuti per il poderino il circolo albatros di metauriglia per ponte sasso e metauriglia la sala cubo del centro commerciale di san lazzaro e il circolo anziani di via santa eusebio per sant'orso ma ovviamente le primarie del pd non interessano soltanto fa non interessano anche l'entroterra e qui vediamo subito un titolo il partito democratico dell'entroterra si interroga sul futuro monica scaramucci rilancia i grandi temi i grandi temi per l'entroterra sono soprattutto la fano grosseto la strada per roma e la necessità di porre attenzione alla solidarietà insomma solidarietà un tema un po comune che interessa tutti e vediamo come la solidarietà interessa anche la pagina di pesaro per quanto riguarda invece un scusate vediamo un po' se lo rintraccio per quanto riguarda un caso che è da diversi giorni sulle pagine dei giornali una famiglia con un ragazzo disabile che siede in una sedia a rotelle che doveva essere sfrattata nella giornata di ieri per fortuna il comune è intervenuto in tempo proprio all'ultimo minuto in estremis ed ora c'è tempo fino al 6 marzo prossimo per riuscire a trovare una soluzione il comune aiuterà la famiglia di ale ma la casa la vogliono trovare da solo l'assessore al welfare pandolfi ha incontrato i moneti i moneti sono la famiglia interessata che saranno seguiti dai servizi sociali assessore torniamo alla emergenza abitativa il comune di fano ha degli alloggi da porre in gioco nel momento dell'emergenza allora il comune di fano chiaramente non dispone di alloggi di proprietà perché gli alloggi di proprietà sono quelli messi a disposizione per le case popolari e sono gestiti per gli alloggi popolari gli alloggi di edilizia e residenza repubblica e sono gestiti da erap che è l'ente regionale per gli alloggi popolari a fano ce ne sono tanti però sono ancora insufficienti perché poi negli ultimi tempi non sono stati costruiti nuovi alloggi ogni tanto c'è un ricambio perché alcuni emigrano oppure lasciano oppure ci sono varie situazioni ci sono alloggi da sistemare che con erap stiamo insistendo sempre di più perché siano fatte le adeguate manutenzioni per poi riallocarli per riassegnarli noi abbiamo invece per quello che riguarda l'emergenza abitativa e promuoviamo e colgo anche questa occasione per farlo una manifestazione di interesse per coloro che hanno alloggi sfitti che possono essere cooperative associazioni singoli proprietari per metterli a disposizione utilizzando lo strumento del fondo di garanzia cioè il comune interviene nei casi appunto seguiti nei nuclei familiari che sono in carico ai servizi sociali per poi sostenere l'eventuale insolvenza purtroppo finora a questa manifestazione hanno partecipato in pochi ci sono un po di problemi c'è la burocrazia c'è c'è il fatto che ci sono delle resistenze culturali c'è il fatto che poi tutti hanno paura o tutti insomma molti hanno paura che poi no ci si entri in una in un in un percorso dal quale poi è anche difficile uscire o se non con cause legali io devo dire che abbiamo comunque una disponibilità di alloggi grazie ad alcuni progetti vedi il progetto ex cives gimarra bellocchi sono progetti di housing sociale a ponte sasso con un'altra cooperativa c'è un co housing per mamme sole ci sono ecco diverse disponibilità noi abbiamo una una gradatoria interna con una commissione per l'emergenza abitativa seguiamo quindi però ecco l'importante è che noi abbiamo comunque un servizio attivo che accompagna si chiama appunto progetto di accompagnamento abitativo perché mi piace anche il titolo perché davvero dobbiamo sempre portare di più a coloro a riconquistare un'autonomia e quindi è trovare la casa da soli però ci vogliono le condizioni che questo avvenga il fatto che la famiglia dica ma la casa la vogliamo trovare da soli è significativo insomma l'assistenzialismo non paga ci vuole anche un po di responsabilità e bisogna accompagnare sempre di più verso questo ma parlando di assistenza assessore a fano c'è una grande carenza quella di una rsa ci sono tante tante famiglie che hanno bisogno di un punto di riferimento per i loro cari assistenza domiciliare si viene un po in qualche caso sostenuta però è molto molto gravosa soprattutto se i figli oppure chi per loro lavora e quindi non ha questa possibilità una rsa possibile che una città di 60 mila abitanti non abbia ancora questa struttura che tante altre città meno importanti hanno? Su questo sfondi una porta aperta nel senso che è un tema sul quale ci stiamo ci stiamo battendo io sto insistendo fortemente col sindaco abbiamo scritto una lettera se non ricordo male a novembre ma dopo varie interlocuzioni una lettera ufficiale firmata da entrambi cui chiediamo un incontro all'assessore saltamartini e abbiamo coinvolto anche gli interlocutori tanto per dire che insomma vogliamo davvero il bene della città quindi abbiamo coinvolto anche i rappresentanti regionali che sono che vengono da fano l'assessore aguzzi il consigliere luca serfilippi la consigliera marta ruggeri perché davvero c'è bisogno io ricordo che c'è un protocollo che ancora in piedi che prevedeva 80 posti socio sanitari a fano era legato al tema dell'ospedale il tema dell'ospedale c'è è un ospedale nuovo ma non è quell'ospedale che era previsto c'è il tema della strada degli interquartieri che invece sta andando avanti poi vedremo gli sviluppi e c'è il tema anche dei posti sanitari i 50 posti sanitari di cui si è discusso anche di recente per gli ortopedia insomma dovrebbero però ecco io a me interessa in questo momento appunto vengo alla tua domanda negli 80 posti sono 40 posti di rsa che sono stati assegnati sono di cui sono titolari il soggetto che gestisce oggi il don paolo tonucci dove noi abbiamo 30 posti di residenza protetta ecco bisogna trovare il modo perché con tutto quello che è successo vedi la situazione di villa fastigi perché il titolo per poter andare avanti il soggetto gestore ce l'ha ma bisogna cercare di trovare le condizioni politiche ma anche diciamo di territorio per cercare di realizzarli noi a fano abbiamo ad oggi solo 18 posti di rsa ma privati sono al cante di monte vecchio quindi privato convenzionato ma invece abbiamo bisogno tanto bisogno di posti di rsa ma anche di rp di rp demenze abbiamo residenza protetta sarebbe rp residenza protetta demenze sarebbe il tema dell'alzheimer sappiamo tutti che noi a fano abbiamo la fortuna ma anche quello insufficiente di avere un centro di urno ed è uno credo il solo perché a piesolo ce n'è uno molto piccolo in tutta la provincia non ce ne sono altri qualificato che è un'eccellenza che il centro margherita ma c'è un'esigenza anche di una residenza perché quello è un centro di urno quindi semi residenziale di una residenza protetta per le demenze perché è un fenomeno che registriamo di continuo in forte crescita continuiamo con le altre notizie assessore e vediamo che l'apertura della pagina del resto del carlino è dedicata invece ad un allarme che ha ieri lanciato l'ampi l'ampi la sezione led antinori di fano eccolo qua stagionali sottopagati ecco il titolo lampi lancia l'allarme il settore del terziario turistico ovvero quello della ristorazione rischia di non essere più attrattivo e molti preferiscono spostarsi verso l'industria la ristorazione è in crisi i ristoratori faticano a trovare dipendenti a trovare persone che fanno i cuochi che fanno i camerieri insomma perché perché insomma è poco attrattivo questo lavoro innanzitutto ci sono sacche dove il lavoro è sottopagato dove ci si paga in nero dove non viene osservato il giorno di riposo dove è il lavoro è precario perché poi è un lavoro stagionale quindi uno non può fare progetti a lungo termine e pensate secondo quanto ha evidenziato il sindacalista della film cgl fiscaletti lo stipendio medio a livello annuale a livello annuale è di poco più di 4 mila euro con una media nazionale che invece di 5 mila quindi nelle marche non si fa non si lavora voglio dire non si campa bene ma non si campa bene nemmeno a livello nazionale è un problema questo veramente importante anche di ordine sociale ci vogliono più controlli e occorre soprattutto la ristorazione poi è uno degli aspetti qualificanti del nostro turismo perché l'enogastronomia è diventato una forza d'attrazione come lo è la cultura come lo sono i monumenti come lo so come il turismo esperenziale e quindi anche qui bisogna intervenire cosa ne pensa assessore ma questo è un fenomeno che si registra ormai da tempo io credo che ci siano due aspetti uno appunto il fatto dei controlli il fatto di trovare anche gli strumenti per poter fare in modo che comunque gli abusi tra virgolette lo sfruttamento perché davvero in alcuni casi si arriva a questo vada contrastato dall'altra però c'è anche il fatto che comunque sono cambiate anche tante esigenze io adesso uno sembra nostalgico magari ripercorre ma ognuno di noi penso che ha fatto durante l'estate quando studiava quando io l'ho fatto anche dopo durante l'università il cameriere insomma ecco credo che una volta c'era un po più di disponibilità oggi si fa molta fatica però con questo chiaramente non voglio né giustificare né trovare alibi da questo punto di vista bisogna trovare con l'accordo con i sindacati con i datori di lavoro cercare anche di trovare degli strumenti che possono garantire io credo anche regolarizzando a livello anche normativo oltre che di accordi territoriali normando diciamo alcune tipologie di contratto che possono essere davvero funzionali per questo perché chiaramente il lavoro stagionale c'è nel turismo soprattutto nell'agricoltura che va regolamentato si era cominciato a farlo poi dopo il Jobs Act aveva cominciato probabilmente non era sufficiente però ecco su questo una importante riforma del lavoro e quindi di quei contratti va attuata ma questo è una competenza più che altro nazionale quindi del governo spero che questo governo non credo che sia molto sensibile su questo però sai è quello che abbiamo quindi è quello con cui dovremo fare i conti è doveroso sottolineare come tutti i settori della pubblica amministrazione hanno un po' a che fare con i servizi sociali per esempio il turismo il turismo di Fano è un turismo anche il turismo ovviamente di tutto il territorio di tutto il comprensorio è un turismo di carattere familiare e quindi è un turismo molto molto adeguato per le persone anziane per le famiglie con bambini anche questo è un aspetto sociale quindi si deve strutturare per soddisfare le esigenze di questo tipo di clientela i giovani vabbè i giovani però forse prediligono la Romagna anche se noi cerchiamo di trattenerli però insomma le persone anziane e le famiglie soprattutto fanno poi la città dei bambini deve attrezzarsi strutturarsi per soddisfare queste esigenze si si condivido in pieno e che appunto non è vero che i settori siano a compartimenti stagni bisogna cercare di dialogare la visione della città si è presentato anche di recente il progetto strategico sulla città deve tener conto anche di queste esigenze per esempio la viabilità ha bisogno dell'approvazione del PEBA ovvero del piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche perché l'accessibilità è un'altra delle caratteristiche delle priorità sia sul tema del turismo si parla di turismo accessibile perché una città che ha progressivamente eliminato le barriere non è una città solamente più accogliente nei confronti di coloro che hanno difficoltà motorie ma nei confronti di tutti perché ne beneficiano comunque davvero tutti pensiamo poi alle innovazioni tecnologiche dove la componente anziana deve cimentarsi sempre più con l'uso del computer per tutti anche il disbrigo di documenti, di rapporti con la pubblica amministrazione, lo speed su questo devo dire che noi abbiamo fatto come servizi sociali, come ambito, io ricordo sempre che sono anche presidente dell'ambito territoriale sociale numero 6, abbiamo fatto negli ultimi anni, vuoi anche per via della pandemia percorsi di accompagnamento nei vari bandi perché ormai tutti i bandi, tra l'altro ne esce proprio uno oggi sulla famiglia contributi per le famiglie monoparentali o numerose e abbiamo fatto percorsi di accompagnamento per l'utilizzo dello speed perché appunto anziani, persone che hanno poca dimestichezza Assessore siamo addirittura d'arrivo quindi voglio soltanto farle notare come i giornali che stamattina evidenziano un progresso nelle indagini per quanto riguarda l'assassinio che si è svolto a Pesaro un fatto veramente drammatico, ho ucciso il mio amico Michael confessa al PM, al PM romeno dove è stato arrestato le prime ammissioni appunto del amico che ha ucciso con tante pugnalate quindi un delitto veramente ferrato per quanto riguarda i rapporti tra i due ma la domanda che voglio farvi in conclusione ma una risposta rapidissima lei è appassionato di musica, Pesaro ieri era in ebollizione per quanto riguarda i maneskin che hanno così furoreggiato al vitifrigo, all'arena Sì, allora primo esprimo solidarietà come ha fatto il sindaco Ricci per la famiglia che ha subito insomma questa tragedia di Pierpaolo mi sembra si chiamava e poi ecco sì per i maneskin io è un complesso che diciamo guardo con interesse non è proprio il mio genere di musica però sì chiaramente è un punto importante Pesaro che ha una struttura se lo può consentire quindi ben venga appunto Pensi che sono arrivate dall'Austria, dal Belgio, dall'Olanda, sono venuti da tutte le regioni d'Italia appesa proprio per questo, vabbè non possiamo andare oltre siamo arrivati in conclusione Assessore la ringrazio per la sua presenza qui alla rassegna stampa di Fanno TV io vi do come sempre appuntamento a domani alle ore 7, grazie per l'ascolto, a risentirci